Israele colpisce volontariamente i civili palestinesi? Israele sta violando il diritto umanitario e il diritto di guerra? O Israele sta letteralmente compiendo un genocidio? Benvenuti al progetto Razzia e oggi riapriamo il vecchio format delle culture strategiche nazionali e parliamo della cultura strategica israeliana. Non rispiegheremo tutto l'apparato teorico che abbiamo introdotto nei vecchi video, ve li lasceremo qui e nelle descrizioni e che presumo comunque vi sarete già visti. La cultura strategica russa e la paranoia, la cultura strategica europea e la necessità di creare il concetto di eroe, la cultura strategica nipponica e la ricerca dell'invisibilità, la cultura strategica cinese e la ricerca di accumulazione di energia potenziale eccetera eccetera. Vi rimando a questi video per riepilogare le varie peculiarità delle culture strategiche. Vi ricordo qui solo la definizione che io do di cultura strategica è l'insieme delle risposte adattive date da una comunità umana sulla base dei fattori spaziali e temporali che diventano scelte preferenziali e stabili in termini di elaborazione di una strategia. Quindi ad esempio nella cultura strategica russa, quella di un popolo, di una comunità umana che ha sempre avuto un enorme spazio a disposizione, la ritirata è sempre vista come un'opzione strategica che si analizza in senso operativo e non in un senso negativo né dal punto di vista etico né intrinsecamente dal punto di vista militare. Al contrario nella cultura strategica europea c'è quella di una civiltà nata in un territorio molto denso, la ritirata è il male, è una prassi da eliminare. Per questa ragione la comunità sviluppa concetti culturali e simbolici per replicare atteggiamenti strategicamente sensati. Quindi nasce l'eroe e nasce l'epica. Questa cosa nasce in Grecia ma la vediamo e l'abbiamo vista continuamente nella storia dei popoli europei. Il non passa lo straniero che si cantava durante la prima guerra mondiale è letteralmente il tentativo di trasformare in un concetto simbolico e culturale una motivazione, una necessità strategica degli italiani. Ma Israele? Israele è la storia di uno stato giovanissimo mandato da un popolo, da una nazione, da una comunità umana che si riconosce come antichissima, che ha vissuto una enorme quantità di guerre, persecuzioni, dolori, sia come agente sia come agiti e che come ha preso forma tutto questo, come si è tradotto tutto questo in una cultura strategica, come si traduce tutto questo in un paese ad esempio che gode di una salute economica piuttosto notevole, con un sistema produttivo avanzatissimo, un'influenza politica enorme, se vogliamo, sproporzionata rispetto a quello che uno potrebbe aspettarsi, ma con uno spazio geografico e un margine demografico molto molto ridotto. Le peculiarità della cultura strategica israeliana a mio avviso sono tre. La mobilitazione totale nel tempo e nello spazio, la capacità e il tentativo di reclutare massimamente le forze della comunità nazionale, la sorpresa e la simmetria. Questi ultimi due punti, asimmetria e sorpresa, possono dare come effetto non esplicitamente ricercato, ma comunque plausibile, calcolato o accettato, l'effetto del terrore. A mio avviso, poi vedremo nel dettaglio, la generazione del terrore in realtà è un output piuttosto costante nella cultura strategica israeliana e questo dovrebbe spingerci a fare delle riflessioni più profonde. Partiamo dagli inizi, ma prima di proseguire vi invito a mettere like al video, a iscrivervi al canale se non vi siete mai iscritti e ovviamente a diffondere, a far conoscere questo canale e i miei video. Mobilitazione totale nel tempo e nello spazio, dice Mamu. Israele ha un'economia avanzatissima, con una forte creazione di plus valore, con un sistema educativo tra il migliore del mondo, probabilmente nel mondo occidentale è il migliore, che fin dalla nascita ha cercato di non tenere separato il concetto di forza armata e le loro necessità e le loro problematiche dal resto della società e dal resto del sistema politico israeliano. È tra le nazioni occidentali, ad esempio, dove è più facile trovare politici che abbiano un passato militare, con una densità che non vediamo in nessun'altra nazione, anche in Russia, che pure ha, come abbiamo visto, una forte tendenza osmotica dal mondo militare al mondo politico. Il sistema di reclutamento militare è pensato per essere quasi completamente sovrapponibile al sistema produttivo, in maniera piuttosto inedita. Tutti i cittadini di entrambi i sessi devono svolgere servizi militari e vanno a costruire la riserva che verrà poi attivata in caso di conflitto, come stiamo vedendo in queste settimane, in questi mesi. Secondo alcuni, o meglio, il sistema potrebbe sembrare paragonabile, ad esempio, al sistema svizzero, dove oltre alla Naya, per una settimana, dieci giorni, durante ogni anno, per tutta la vita in cui un maschio è adatto alla vita militare, si viene richiamati in Svizzera a fare esercitazioni, un minimo di addestramento e di ripasso della procedura. Ma il paragone, a mio avviso, non regge, perché il sistema israeliano è molto più raffinato, molto più complesso, molto più rodato. L'esercito stesso è organizzato in modo da potersi integrare perfettamente con la vita civile. Le procedure e l'addestramento di molti reparti sono ben pensate o comunque sono pensate per essere incastrate nella formazione del sistema produttivo israeliano. Questa sovrapponibilità permette, almeno a livello teorico, diciamo, nelle intenzioni del decisore politico, di fare in modo che le forze reclutabili attive siano sempre il massimo disponibili e siano sempre al massimo disponibili, fresche e pronte, e che il sistema economico stesso sia parzialmente utilizzabile dalla macchina militare per una rapida riconversione, non solo a livello produttivo, ma proprio a livello complessivo. Quindi l'azienda, l'ufficio marketing, diventa un'azienda che deve gestire l'immagine operativa di alcune reparti dell'esercito, oppure aziende di consulenza informatica diventano in tempo zero emanazione di reparti di controspiraggio con una precisa missione, perché tanto avendo tutti all'interno i lavoratori esperienza militare, è sufficiente che arrivi un ufficiale di collegamento e già si riprende una forma quasi perfettamente funzionale dal punto di vista militare. Per via poi della peculiare identità ebraica, che è un'identità molto sentita dai propri appartenenti e contemporaneamente non ridotte, non perfettamente sovrapponibili al mondo israeliano, cioè gli israeliani sono lo stato degli ebrei, ma gli ebrei legati al mondo israeliano sono anche fuori da Israele. Questo processo di reclutamento, almeno a livello culturale, va a prendere in realtà in tutte le persone che si riconoscono nella cultura ebraica o che fanno parte della comunità ebraica e diventa un formidabile strumento di pressione internazionale, soprattutto all'interno del mondo occidentale e all'interno delle altre società e all'interno di altri apparati decisionali e di altri attori politici. In questo modo Israele riesce a godere di questo che è un moltiplicatore di forze e una nazione che è relativamente piccola perché ha meno di 10 milioni di abitanti, riesce a proiettare una quantità di forza assolutamente sproporzionata, anche una quantità di generale di pressione politica sproporzionata rispetto al nudo numero. Tuttavia ovviamente questa sofisticata integrazione non può completamente ovviare al brutale dato quantitativo, cioè lo stato Israele ha meno di 10 milioni abitanti, quindi è una potenza militare che non può realisticamente affrontare sforzi militari prolungati nel tempo senza aiuti esterni importanti. Un conto è l'ottimizzazione, un conto è la capacità di reclutare tutte le potenzialità del proprio sistema paese o addirittura del sistema comunità ebraica, ma come vediamo in queste settimane le aziende israeliane cominciano a rimanere senza lavoratori. La gestione dei vari scaglioni di riservisti che entrano e riscono nel conflitto e dovrebbero tornare alla vita civile e viceversa genera uno stress notevole sia al sistema produttivo sia alla società israeliana nel suo complesso, portando e generando un fenomeno del reducismo che è di per sé, come abbiamo detto molte volte, il fenomeno del reducismo è un grandissimo acceleratore politico, una variabile enorme di pressione sul sito politico e di cambio della società. Israele in questo modo ha un peculiare modo di gestire il fenomeno del reducismo ma immediatamente politicizza il reducismo perché ovviamente fai entrare in poco tempo ogni famiglia israeliana avrà qualcuno che è stato reclutato, avrà un figlio, un marito, un padre che è al fronte e questa cosa qui genera un enorme stress nei confronti del decisore politico. Non dimentichiamo inoltre, anche se negli analisti non si analizza mai il dato politico, il dato istituzionale politico, che il sistema politico israeliano è basato su un parlamentarismo e che il sistema elettorale israeliano è un proporzionale perfetto, quindi ogni forma di dissenso che supera una certa soglia, e una guerra sicuramente rientra in questa forma di potenziale pericolo, genera una pressione politica immediata, ecco, cioè alle prossime elezioni ci sarà qualcuno che si farà portavoce di una linea con Trenan Tania per forza. E questo tra l'altro è a mio avviso una delle motivazioni per le quali la classe di gente israeliana, poi come vedremo approfondiamo più avanti, ha anche questo approccio all'agire velocemente perché comunque c'è qualcosa che si consuma anche dietro di te, cioè la società analizza e trasforma questa tensione in una problematica politica. La seconda peculiarità tipica della cultura strategica israeliana è la sorpresa, cioè l'adozione costante, però funzionale, della linea di minore aspettativa da parte del progressale e da parte del teatro. Molto frequentemente, storicamente, la risposta israeliana ad una minaccia o ad un danno è una risposta militarmente audace che mescola molti piani di conflitto tendenzialmente inedita rispetto ad analoghe situazioni del passato, quindi appunto sorpresa. La guerra dei sei giorni e la decisione di eliminare completamente l'arenautica israeliana e l'arenautica egiziana nelle prime 72 anni del conflitto è l'applicazione di questo principio, non solo a livello operativo ma anche a livello strategico, cioè il solo pensare che sia fattibile è già una sorpresa, audacia e bassa aspettativa. Il raid di Entebbe, di cui molti di voi hanno sentito parlare, che fu conseguente a questo sequestro di un aereo che da Tel Aviv doveva andare a Parigi, sequestrato da militanti del fronte popolare per la liberazione della Palestina e da militanti dell'estrema sinistra tedesca, mi pare. L'aereo è stato sequestrato, i sequestratori hanno chiesto di andare in Libia, è stato un parapiglia di aeroporti che dicono sì, di aeroporti che dicono no, nazioni che chiudono lo spazio aereo e tutto. In definitiva l'aereo finisce nell'Uganda di Amindada e non si sa neanche peraltro se i di Amindada fosse d'accordo o se avesse accettato l'ortocollo o proprio se fosse trovato l'aereo nel proprio spazio aereo. Ne seguì dopo l'atterraggio in Uganda qualche giorno di stallo e poi le forze speciali israeliane decidono di procedere per una operazione di assalto e liberazione degli ostaggi. Operazione che di per sé già tra le più operative difficili anche sul proprio territorio, un territorio che si controlla, in un territorio dove teoricamente il di Amindada è anti-israeliano era letteralmente qualcosa di inconcepibile, di una sorpresa. infatti è considerata nella storia delle operazioni speciali forse una delle operazioni non solo più tecnicamente difficili ma anche che ha avuto un risultato positivo migliore perché il ritorno è stato sostanzialmente quattro o tre ostaggi morti di cui uno ucciso delle forze speciali israeliane e un solo membro delle forze speciali israeliane ucciso. Peraltro, aneddoto che non tutti sanno ma che vi torniamo a quella cosa che dicevamo prima alla forte osmosi che c'è tra politica, esercito, forze armate, società. L'unico morto fu l'ufficiale responsabile dell'organizzazione e dell'operazione quindi il comandante in capo, che era Jonathan Netanyahu, il fratello dell'attuale primo ministro Netanyahu che peraltro a propria volta ha una carriera nei ranghi dell'esercito israeliano. Questo per dirvi quanto quell'osmosi è forte e storicamente sempre vero, la vedete oggi. L'ultima caratteristica è la simmetria, cioè la tendenza a rispondere in modo sproporzionato o diverso per quantità e qualità rispetto alla minaccia o al danno ricevuto. Questa già è una prassi abbastanza borderline dal punto di vista del diritto umanitario internazionale perché il diritto di guerra in generale si basa sull'idea che la rappresaglia sia sempre legittima nella misura in cui è o simmetrica o serve eliminare la minaccia, la fonte del danno. Gli israeliani perseguono la simmetria, quindi di per sé si pongono un po' al di fuori di questa logica tendono ovviamente a giocarsela dicendo che però tendenzialmente lavorano per eliminare la fonte della minaccia ma anche qui, non voglio trarre al dettaglio, diciamo che la questione è dibattuta perché si entra un po' nel politico. Israele sostanzialmente tende a ignorare questo principio e si considera, e ormai viene anche considerata dalla comunità internazionale una sorta di unicum. Ma da dove nasce questa esigenza strategica della simmetria? Perché c'è questo adattamento strategico che genera la simmetria e la ricerca della? Nasce dalle dimensioni limitate della nazione israeliana. Uno Stato che ha meno di 10 milioni di abitanti non può ragionare in maniera simmetrica, non può ragionare in maniera prevedibile perché se hai un avversario o un vicino di medie dimensioni, quindi una nazione di 30-40 milioni di abitanti, l'altro godrebbe di un enorme vantaggio se tu accettassi completamente sempre la simmetria, perché se lui impostasse un conflitto che genera più o meno mille morti al giorno per parte, rimanendo tu all'interno della simmetria, dopo 9.000 giorni, tu avresti perso completamente la tua mano d'opera o forza di fuoco a disposizione o in realtà tutta la tua popolazione, mentre il tuo avversario che ha 4 volte di più i tuoi abitanti avrebbe perso solo il 25% della popolazione. Quindi ovviamente in questo senso Israele ha sempre percorso la strada della simmetria. La simmetria definitiva è la disponibilità atomica di Israele che nessuno dei suoi vicini e neanche dei potenziali avversari possiede. Con Israele che peraltro è anche riconosciuta universalmente come l'attore atomico con la plausibile maggiore predisposizione all'utilizzo dell'arma stessa. Ora, altra cosa importante, l'unione negli ultimi due punti, asimmetria e sorpresa, tende a inverarsi, a realizzarsi, a sintetizzarsi in una prassi brutale, scioccante, terroristica. E qui sono possibili due strade interpretative. C'è chi ritiene che questo inveramento possa essere eventuale, cioè Israele persegue asimmetria e sorpresa e nel perseguire questi due principi strategici tende spesso a generare terrorismo o una prassi terroristica. L'altra interpretazione è che invece si possa pensare che per questione di cultura strategica i due principi strategici siano così indissolubilmente legati e diano così frequentemente un output terroristico che si possa affermare che Israele fa un uso strategico del terrore e che pertanto abbia spesso una prassi terroristica. Ora, al netto dei giudizi morali, vedete bene che io cerco di fare delle analisi sospendendo il giudizio il più possibile e facendo delle analisi strettamente tecniche, peraltro è il dovere di ogni analista politico, nonché in realtà di ogni rivoluzionario perché è solo con la verità che puoi fare dei calcoli reali. Io credo però nel caso specifico che per ragioni storiche sia più corretta la seconda interpretazione. I video che vediamo in queste settimane su TikTok di decine di soldati israeliani che commettono crimini di guerra di varia gravità non possono essere casuali. Vediamo distruggere le proprietà, le case degli sfollati che se la gente pensa, il pubblico medio pensa che questa cosa si possa fare perché siamo in guerra in realtà non si può fare. La gente ha una visione della guerra che si basa, una competenza che si basa su fin di guerra varie proiezioni psicoanalitiche e tantissima masturbazione mentale. In realtà in guerra tu puoi prendere tutto quel che ti serve ma che abbia un uso o una giustificazione militare. Se sei un soldato di pattuglia e trovi in giro del cibo o in una casa del cibo lo puoi mangiare. Se devi scappare da una zona puoi utilizzare la bicicletta di uno sfollato. Se sei di notte in un pattugliamento e comincia a piovere puoi rifugiarti nella casa di uno sfollato o nella casa di qualcuno ma non puoi danneggiare e rubare senza motivo la proprietà altrui. il cui stato di guerra sospende il possesso ma non sospende il diritto alla proprietà dei legittimi proprietari. Non puoi, come vediamo, fare video in cui distruggi la casa e gli sfollati li prendi in giro e poi carichi il video su TikTok rubi gioielli e dici alla tua fidanzata a casa quando trovano ti regalo questa collanina rubata ai palestinesi. Questa cosa non si può fare. Il fatto che questo fenomeno non venga arginato e non venga controllato non venga sanzionato mi lascia presumere che sia in realtà incentivato e che ricada all'interno di una strategia comunicativa alla ricerca di smobilitazione delle resistenze psicologiche avversarie per comunicare forza e la capacità di agire completamente in maniera assoluta in arbitrio da parte di Israele. Qui già siamo, a mio avviso all'interno dell'uso strategico del terrore e l'utilizzo cosciente militare di una violazione del diritto internazionale a mio avviso è in senso stretto terrorismo sono disposto a discutere però mi pare ci sia poco a discutere. È palese terrorismo quando Israele mostra video di soldati che sparano la folla di palestinesi accalcati per cercare il cibo messo a disposizione dell'ONU perché il fine è terrorizzare la popolazione palestinese e paralizzarla far pensare che non puoi mandare i tuoi figli che stanno morendo di fame a prendere del cibo neanche in un contesto palesemente civile palesemente non di legittimità militare quindi non di bersaglio legittimo dove addirittura c'è l'ONU che supervisiona l'operazione eppure tu non devi sentirti al sicuro devi sentirti un morto che cammini in ogni istante. Questo a mio avviso è una palese strategia e uso terroristico dell'informazione col fine di sicuramente smobilitare e distruggere le esistenze degli avversari più vicini ma anche di spaventare gli avversari più lontani forse fino addirittura arrivare alle comunità islamiche in Europa che manifestano e che generano un certo tipo di pressione politica su Israele volendo si potrebbe anche pensare che sia terroristica l'idea stessa di sgomberare due milioni di persone come stanno facendo o l'idea di proporre di sgomberare completamente la strisce di Gaza e farla diventare qualcos'altro ma non è questo il luogo per discutere diciamo che qui vedete bene come intrecciando la ricerca della simmetria e la ricerca della sorpresa l'esito terroristico sia molto 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 frequente per me facendolo un discorso anche storico perché sappiamo che la cultura strategica è la risultante della storia di un popolo è impossibile dimenticare che Israele nasce da forze politiche che nella definizione del tempo e anche di oggi erano strettamente terroristiche come l'Irgon e anzi Israele è uno dei pochissimi casi di successo della storia del terrorismo e questo successo non può che aver avuto un significato nella loro cultura strategica perché ha funzionato e quindi è uno strumento utilizzabile mentre tendenzialmente che se ne dica ma faremo dei video il terrorismo non funziona è una strategia che non funziona dal punto di vista strattamente strategico ha altre fini ma anche andando indietro le stragi dei civili fanno parte si trovano sulla Torah nel Deuteronomio Yahweh letteralmente cosa dice agli ebrei dopo che avete conquistato una città che avete cinta d'assedio ne colpirai a fil di spada tutti i maschi ma le donne e i bambini saranno il tuo bottino li prenderai come tuo preda non lascerai in vita alcun essere che respiri eccetera eccetera quindi a mio avviso il terrore non è un'eventualità operativa ma piuttosto un principio strategico della cultura israeliana della cultura strategica israeliana in merito la questione sequestra il significato sia culturale che politico che strategico di questa pratica intrapresa dalla massa faremo un altro video successivamente simmetrico a quello che abbiamo fatto oggi anche perché la prassia del sequestro che a propria volta è ovviamente inquadrabile in una strategia strettamente terroristica con questi contendenti con la storia di questo teatro assume significati inediti che vale la pena analizzare sia lato israeliano che lato palestinese detto questo come al solito lasciatemi i vostri commenti fateci ricordare questo video e ci vediamo alla prossima razzia grazie a tutti